Un disegno di legge che sta a cuore a ConfCommercio e che consentirà ai proprietari di locali di programmare anziché rincorrere. Il presidente provinciale di FIPE Ristoratori ConfCommercio, Lucca Massacarrara, Antonio Fava, si è detto soddisfatto nel commentare il provvedimento concorrenza 2023 approvato dal Consiglio dei Ministri, che prevede un riordino delle procedure in materia di deorts per i pubblici esercizi. Non c'è dubbio, afferma Fava, che si tratti di una riforma attesa da tempo dal nostro comparto. In questo modo gli imprenditori avranno modo e tempo di programmare gli spazi a propria disposizione senza doversi confrontare ogni anno con cavilli normativi in continua mutazione che generano difficoltà e incertezze. Per la ConfCommercio la nuova linea fissa due principi di fondamentale importanza. Il primo è che si punta a far sì che gli investimenti degli imprenditori di settore possano diventare strutturali, l'altro che i deorts con un'accurata progettazione possano diventare una risorsa per la valorizzazione del decoro urbano della città, anzi che è un problema. Attendiamo con fiducia, termina il presidente di FIPE Ristoratori, che il provvedimento diventi definitivo in tempi rapidi con l'approvazione di Camera e Senato.